Allora per abilitare diciamo le altre funzionalità che abbiamo immaginato prima quando dicevamo quali erano i problemi della soluzione 1 ci viene in aiuto il templating engine allora un templating engine in generale è quello che riportate in questa slide poi flask utilizza un template engine che ha una sua sintassi che si chiama jinja o jinja 2 a volte trovate anche scritto così ma ne esistono altri template engine che fanno la stessa cosa solo con una sintassi diversa ma funzionalmente sono la stessa cosa allora cosa ci serve un templating un sistema di templating ci serve per evitare di scrivere codice html in python che a quei problemi è brutto e porta ad avere errori può portare ad avere errori perché scrivete codice html a mano in python con le stringhe poi bisogna mettere la doppia stringa poi bisogna mettere il più poi bisogna fare l'escaping della stringa perché se non si chiude serve la virgoletta eccetera e complessa perché deve seguire le regole di quoting di python ma anche le regole di escaping dell'html che al momento abbiamo evitato perché non è capitato però se noi avessimo un minore in python questo deve essere fatto l'escaping si deve finire su html e poi è brutto l'abbiamo già detto ma lo ripetiamo e il templating ci permette di separare la struttura fissa dell'html dalla parte variabile quindi ci sono cose in html che saranno sempre uguali e quindi possiamo scrivere una volta e dimenticarci e poi tutte le volte che vogliamo aggiungere del contenuto dinamico come dicevamo prima il post del blog che si deve ripetere tre volte adesso devono fare copy in colla tre volte del contenuto lì potremmo avere python che genera da solo l'html e lo inserisce nel posto giusto nella struttura dell'html ora oggi iniziamo a vedere il templating quello che ci serve in realtà per il laboratorio di mercoledì poi giovedì che faremo lezione questa settimana per recuperare il ponte della settimana scorsa e continuiamo a parlare di templating con aspetti un po più avanzati e anche di flask con aspetti più avanzati allora il templating funziona in questo modo i template bisogna definire dei file a parte come dicevamo prima che sono file di template e che in gingia hanno estensione punto html come file html qualunque questo vuol dire che quando vengono aperti da un browser col doppio clic come facevamo fino a qualche settimana fa il browser cerca di visualizzarli per quanto può i template sono devono essere nella cartella templates plurale all'interno del progetto e di nuovo un'altra convenzione di flask i template se ci sono sono in una cartella che si chiama templates al suo interno possono esserci tutte le sottocartelle che si vogliono oppure nessuna ma ci deve essere la cartella templates i template possono accedere implicitamente quindi dal file diciamo così html si può accedere alla richiesta che dicevamo prima e anche ad altri oggetti che flask mette a disposizione che vedremo e i template sono chiamati nella funzione associata a una route scrivendo nel return ovviamente dato che il return quello che restituisce qualcosa al browser usando la funzione render template che prende un parametro obbligatorio e un parametro facoltativo il parametro obbligatorio è il nome del file che contiene il template all'interno della cartella templates quindi se noi abbiamo un file che si chiama hello.html nella cartella templates va scritto come stringa può anche esserci un altro parametro che è un eventuale variabile che vogliamo passare da python al template quindi per esempio se nella funzione definiamo una lista di oggetti e poi questa lista vogliamo stamparla nella pagina html passeremo l'oggetto che contiene la lista dal app.python al template hello.html che a quel punto avrà a disposizione l'oggetto python per stamparlo per esempio quindi se noi abbiamo questo è di nuovo un po' misleading un po' come vanv vanv il primo name è il nome della variabile nel file app.python il secondo name è come si chiamerà la variabile nel template spesso si usa lo stesso nome perché spesso è un nome furbo che vogliamo recuperare vogliamo la lista di studenti chiameremo studenti uguale studenti in modo che nel template se dobbiamo iterare sulla lista degli studenti avremo la stessa informazione questo è facoltativo il primo obbligatorio il nome del template cosa ci mettiamo nel template? nel template possiamo metterci quattro cose codice html quindi tutto quello che abbiamo visto finora html css quindi linkato come file css possiamo metterci degli statement possiamo metterci dei commenti e possiamo metterci delle espressioni non mi veniva espressioni scusate le espressioni si scrivono in questo modo doppia parentesi graffa qualcosa, una variabile chiusa doppia parentesi graffa queste sono espressioni python e vengono risolte come espressioni python quindi se questo parameter è un nome di una variabile che contiene 5 il doppio graffa nome della variabile doppia graffa chiusa stamperà, produrrà in html 5 che è il contenuto di quella variabile fa un print in un certo senso in html e queste sono espressioni gli statement invece si scrivono tra una parentesi graffa e un percento e un percento e una parentesi graffa per chiudere e sono invece pezzi di programmazione in python in un certo senso quindi lì dentro ci può stare un ciclo per tre volte stampa questo per tre volte itera sulla lista degli studenti se la variabile è vera allora fai questo sono statement di programmazione che ricordano la programmazione python e poi ci sono anche la possibilità di avere dei commenti nel file di template che si scrive in questo modo che sono commenti che vengono poi omessi dalla generazione dell'html ora se noi vogliamo rendere questo lo guardiamo sulle slide ma potremmo anche farlo vediamo se abbiamo tempo se vogliamo rendere il nostro la nostra soluzione di prima a template cosa dobbiamo fare? allora app.js diventa questa cosa qui estremamente questi? uno, due, tre questi? allora questo è il primo è una variabile che tu hai definito che hai chiamato name perché ti piaceva name all'interno del file app.py ok? il secondo è la variabile che passi al template e a cui assegni quel nome quindi name uguale name studenti uguale studenti studenti uguale qualcos'altro nomi che tu assegni alle variabili una nel file python e una nel template dicevo se vogliamo trasformare quello che abbiamo fatto finora in template nel file python si semplifica tantissimo perché togliamo tutto l'html e andiamo solo a fare return render template il nome del template nella cartella templates quindi questo index html questo about html sono file che contengono le stesse cose che contiene i nostri return in una cartella che si chiama templates quindi noi potremmo proviamo a farlo qui creare una cartella che si chiama templates non qui nel progetto al di fuori di tutto solo all'interno del progetto fare una cartella che si chiama templates all'interno di questo templates fare un file che si chiama index .html o come ci piace chiamarlo e un file che si chiama about .html che rappresentano le due pagine a questo punto questo la nostra home page si può tagliare e in un certo senso incollare qui e poi dobbiamo sistemarla e possiamo fare la stessa cosa sull'about e qui possiamo scrivere render template index .html e importarlo e la stessa cosa sotto dove questo about .html lo ripeto è il nome che abbiamo dato al file e non c'entra niente col nome che abbiamo messo nella root potrebbe anche esserci una cosa diversa scritta qui sono nomi che abbiamo deciso noi di dare e questi devono stare nella cartella templates quindi qui non scriviamo davanti templates perché è ovvio che sia così se scrivessimo il nome di una cartella davanti sarebbe una cartella che è dentro templates a quel punto l'index si può strutturare come un index quindi andando a capo dove dobbiamo andare a capo per esempio H1 questo va a capo da solo questo bisogna sistemarlo poi qui chiude il body chiude l'html queste virgolette non ci sono più per ora per ora per ora lasciamolo così poi lo sistemiamo ok e la stessa cosa sull'about che a questo punto diventa un file è l'html a tutti gli effetti quindi qua c'è un header qui c'è un link qui c'è il body che si chiude e questo qui e questo non ci serve più e questo link andrebbe convertito in url4 ok quindi anche il title può andare a capo semplicemente riformattiamo il file come l'abbiamo scritto finora essenzialmente ok e questo è la stessa cosa che stiamo facendo dove vedete che la url4 è stato inserito dentro uno statement quindi doppia parentesi graffa perché non è non stiamo ciclando su qualcosa non stiamo dicendo se qualcosa capita vogliamo prendere il risultato di quell'operazione e stamparlo a video stamparlo nella pagina html quindi invece di concatenare le string come facevamo prima dovremo semplicemente andare a dire doppia parentesi graffa e doppia parentesi graffa qua quindi lo stesso codice python viene semplicemente eseguito e notate che non abbiamo neanche bisogno di importare url4 perché essendo tutto all'interno di flasco lo trova da solo il sistema di templating quindi quando il server riceverà una richiesta per questa pagina passerà tutta la pagina leggerà la pagina html verificherà se ci sono degli statement o se ci sono degli elementi di programmazione se li trova se li trova rimpiazzerà il contenuto di quel codice o di quell'istruzione con il suo risultato lo inserirà nell'html e fornirà al browser la pagina html finita quindi implementerà da solo la logica che è necessaria dietro a tutte queste operazioni poi questo possiamo anche fare copia e incolla e andare a metterlo qui dove c'era torna al blog che questo si chiama index se non sbaglio si si chiama index e l'app for funziona esattamente come funzionava prima non è che adesso che abbiamo messo nel template questo è sempre il nome della funzione nell'app.py a cui associato una root e questo è quello che c'è anche qui esattamente quello che abbiamo fatto già qui ora se noi proviamo a eseguirlo e aggiorniamo vediamo che il risultato è ovviamente sempre lo stesso tutto continua a funzionare lo stesso quello che cambia è come abbiamo generato queste pagine non più come string html ma stiamo iniziando a farle comporre dal server da flask e inoltre sono separate quindi se noi domani volessimo prendere index e buttarlo via non dovremmo e rimpiazzarlo o qualcos'altro ci basterebbe cambiare il contenuto di questo file e non toccare nient'altro nel resto del programma allo stesso modo se vogliamo cambiare l'about andiamo nel file dell'about e cambiamo cosa succede senza toccare niente in python cosa che invece nella versione precedente avremmo dovuto andare a cercare dove era l'html di python tutto condensato e andare a modificare direttamente lì nell'unico file python che abbiamo in questo caso questi file diventano molto più piccoli e molto più snelli perché abbiamo spostato la parte di presentazione che è proprio dell'html in file separati invece di tenerli tutti uniti nell'unico file invece di mischiare html con python e questi sono file html quindi vuol dire che qui nel led dovremmo aggiungere tutti gli altri i meta per esempio possiamo aggiungere css perché questo a tutti gli effetti si comporta come un file html quindi aggiungiamo il css come abbiamo aggiunto fino a ieri quello che cambia è che ci sono queste cose in più che non sono html standard ma che appunto flask genererà dinamicamente al momento opportuno questo vuole anche dire che se io apro questa pagina con un browser apro direttamente questa pagina con un browser come facciamo all'anteprima la pagina sarà visualizzata più o meno correttamente ovviamente questo link se apriamo direttamente la pagina non funzionerà perché l'indirizzo cui punterà questo link si chiamerà graffa graffa urlfor aperta parentesi eccetera quindi ovviamente non funzionerà però è un link perché c'è un tag a manca la destinazione del link stessa cosa ovviamente per la index la index manca l'immagine perché la sorgente dell'immagine è graffa graffa urlfor e quindi un browser non sa che cos'è graffa graffa urlfor e quindi non la visualizzerà però tutte le altre parti che non sono gestite da flask che sono html puro ovviamente riesce a visualizzarlo senza problemi quindi ripeto tutto il css e quant'altro si può mantenere ok quindi questo è lo stesso programma che abbiamo fatto prima solo divisa template se le vostre pagine sono più complicate ovviamente questa pagina html sarà più grande se pensate a quello che avete fatto nel laboratorio il css rimarrà a lato rimarrà un file a parte dentro static verrà importato con urlfor static filename uguale style.css nel led e qui ci sarà tutto l'html lungo che avrete scritto esattamente come l'avete scritto finora al netto delle url in questo momento che cambieranno e ovviamente andrete voi a decidere poi qual è la logica se vedete una pagina sola è facile ma direte che quella pagina renderizzerà un template specifico quali sono i programming statement abbiamo detto che ci sono le espressioni che sono quelle che abbiamo usato tipo per l'url4 che prendono il risultato di un'operazione python e la visualizzano la renderizzano in html la stampano a schermo ma abbiamo detto che ci sono anche i programming statement e i principali programming statement che dicevo ricordano quelli di python sono due il for e l'if e si scrivono in questo modo quindi for per esempio variabile in lista oppure for variabile in dizionario punto item items o punto keys o punto quello che è qui in mezzo codice html expression quello che serve e quindi il primo apre il ciclo for qui ci sarà che cosa vogliamo fare n volte ciclando e poi con graffa per cento and for tutto attaccato per cento graffa si chiude il ciclo for quindi questo nel template dice ripeti quello che è indicato qui in mezzo che può essere anche in mezzo a capo tante volte quanto per esempio per i in una lista che va da 1 a 3 per 3 volte oppure qui si può anche dire con uno con un expression se questa è per ogni studente nella lista degli studenti scritti al corso allora stampa i nomi degli studenti allora qui ci sarà una expression che dirà parentesi graffa parentesi graffa variabile punto name che sarà il nome dello studente e poi and for oppure che dirà p tag p graffa graffa eccetera quindi si può mischiare l'html al al templating di python stessa cosa con l'if cosa analoga con l'if quindi graffa per cento if condizione condizione da una variabile oppure if true o se è variabile minore di 5 esattamente come scrivereste in python che cosa deve succedere quando quella condizione è vera altrimenti se altra condizione di nuovo esattamente come fareste in python dove l'altrimenti se non è ovviamente obbligatorio uno può avere solo un if e una fine c'è anche un else e poi il tutto deve essere terminato da un end if quindi a differenza di quello che fareste in python quello che cambia è che il for e l'if vanno inseriti dentro un percento graffa o un graffa per cento e vanno poi terminati da un end for oppure da un end if mentre in python torneremo indietro di tre spazi verso sinistra finché o di un tab verso sinistra finché non torniamo al flusso principale del programma qui siamo in html siamo in un sistema di templating e quindi ci serve un terminatore del for e un terminatore dell'if questi sono i due statement principali questo è un esempio di un for in cui se noi volessimo stampare per esempio i docenti del corso in un template nell'about noi potremmo avere nella funzione associata alla route per l'about una una lista di oggetti python che si chiama teachers che ha come primo elemento un id e un nome come secondo elemento un id e un nome come terzo elemento un altro id e un altro nome e poi fare render template di che cosa del file esattamente come facciamo adesso virgola teachers uguale teachers dove esattamente al contrario di come ho appena detto il primo teachers è quello che passiamo e il secondo teachers è quello che definiamo ok quindi esattamente al contrario di quello che ho detto ma per quello che sono sono confusionari perché per questo sono confusionari qui aiuta il colore ok il verde è quello che va di là e il nero è quello che è di qua quindi passiamo in una variabile di là nel template un oggetto che abbiamo definito di qua nel file python quindi associamo all'oggetto python associamo a una variabile che passiamo al template l'oggetto python che abbiamo la variabile che abbiamo in questo file e a quel punto di là possiamo dire per teacher in teachers che è quello che abbiamo passato come l'abbiamo chiamato qui quindi se qui lo chiamiamo docenti uguale teachers qui usiamo docenti in questo caso se noi mettiamo dentro un ul ogni nome del docente diventa un elenco puntato un li quindi apriamo un ul per ogni docente nella lista dei docenti facciamo un nuovo elenco puntato dove andiamo a mettere uno statement teacher.name chiuso parentesi graffa chiuso al for chiuso al ul ok? tutto chiaro? c'è qualcosa che non vi torna in questa slide? no? quindi dato che vi torna tutto cos'è questo pipe e? era tutto a posto quindi adesso io ho detto che qua stampavamo il nome del teacher non ho detto questo altro simbolo che è qui senza questo altro simbolo in questo caso funzionerebbe tutto però è buona norma metterlo quando si manipola una variabile in python che cos'è? secondo voi questo era chiaro? quindi questo pipe e si chiama filtro in in flask è un modo di applicare un filtro a quello che viene prima quindi simbolo pipe seguito da qualcosa non c'è solo la e serve per applicare un filtro a quello che viene messo prima e in questo caso fa un filtro di escaping per l'html in questo esempio specifico non ci servirebbe perché i nomi sono solo lettere non hanno niente di particolare però è buona norma metterlo se la variabile potrebbe includere il simbolo di minore il simbolo di maggiore la e commerciale o le virgolette o le virgolette doppie che sono caratteri specifici in html perché aprono i tag aprono src uguale o alt uguale eccetera allora bisogna mettere l'escaping altrimenti la visualizzazione può non funzionare o si può iniettare del codice html o javascript per esempio che può essere problematico se però siete 100% sicuri che quello che andate a stampare non ha e non potrà mai avere nessun nessuno di questi caratteri o sarà codice html ben formattato allora l'escaping si può evitare se non siete 100% sicuri un pipe e costa poco averlo sempre e al massimo non fa niente non produce nessun risultato diverso e ora spesso c'è confusione tra uno statement e un expression giusto per ripeterlo lo statement quindi for e l'if controlla il flusso di esecuzione in un template quindi ciclo su degli elementi produco tre punti in un elenco puntato però questa riga non viene visualizzata nel file html finale viene visualizzato il risultato dell'intera operazione ma la singola riga no quindi se questo teacher fosse vuoto qui ci sarebbe un ul che si apre e un ul che si chiude fine perché non avrebbe niente su cui stampare e questo è uno statement controlla il flusso di esecuzione c'è un if allora visualizzo qualcosa se l'if è vero altrimenti no ciclo tre volte cinque volte produco elementi l'expression invece valuta la variabile o valuta l'espressione che c'è all'interno delle parentesi graffe come use come url for e stampa il risultato direttamente nell'html quindi quello che c'è dentro un expression viene diciamo sempre visualizzato nell'html quindi se quell'expression lancia un errore quell'errore viene visualizzato nell'html mentre lo statement serve a controllare il flusso di cosa capita quindi come viene generato l'html finale da python ok proviamo a fare questo nel nostro esempio giusto per quindi qui nella funzione che è una funzione che è una funzione python a questo punto possiamo definire come abbiamo fatto nell'esempio un un array di oggetti di tre oggetti in cui abbiamo messo possiamo mettere un id tipo la la matricola giusto? sì che potrebbe essere 1, 2, 3, 4 e un nome che potrebbe essere il mio e possiamo fare la stessa cosa per gli altri docenti del corso 5, 6, 7, 8 name e 9, 0, 1, 2 name e mettiamo i nomi delle persone a quel punto qui possiamo dire che la variabile che passeremo dall'altra parte che adesso chiamiamo docenti giusto per renderla separata è uguale alla variabile che abbiamo chiamato di qua che si chiama teachers ora questo teachers ci accorgiamo che la variabile è di qua un po' perché il Visual Studio Code ce lo visualizza quindi se non ci ricordiamo abbiamo modo di verificare qual è delle due quella che passiamo e quella che abbiamo definito quindi e soprattutto se noi qui se noi l'invertissimo per sbaglio Python ci direbbe che la variabile docenti non è definita quindi a maggior ragione ci accorgeremmo di averli messi al contrario quindi il primo è quella che passiamo e la seconda è quella che abbiamo all'interno e spesso vengono chiamate uguali anche per evitare di doversi ricordare o di doversi verificare qual è se le chiamiamo sempre uguali a quel punto non è tanto importante qual è quella che passiamo e qual è quella che abbiamo a livello di esecuzione perché evitiamo di dover pensare a quella delle due quella giusta ok adesso al momento mettiamoli separati questo vuol dire che dentro about avremo a disposizione l'oggetto che si chiama docenti quindi se noi adesso andiamo qua e facciamo uno statement di docenti nel p e facciamo refresh e andiamo nella pagina vediamo che python ci stampa l'oggetto è un array di oggetti è un array di dictionary e lui ce lo stampa tutto così com'è di nuovo la differenza tra lo statement e l'expression il programming statement controllo e flusso non farebbe vedere queste cose qui lo statement semplicemente trasforma in html fa un print dell'oggetto un print in html dell'oggetto che abbiamo passato della variabile che abbiamo passato in questo caso della lista di dizionari della lista di oggetti a questo punto se noi volessimo fare qualcosa di meglio di stampare direttamente un oggetto così come nell'esempio potremmo per esempio potremmo cancellare questo e qui andare a dire con un h2 dire docenti del corso e fare un ul e qui dentro andare a scrivere un programming statement che dica for docente in docenti perché abbiamo chiamato così li docente punto name e chiudere and for quindi questo itera su docenti stampa il nome di un docente e lo mette nell'html se noi invece di name volessimo stampare id stessa cosa se volessimo stampare docente punto id più docente punto name stessa cosa a quel punto l'espressione python viene valutata e eseguita in maniera simile a come potrebbe essere eseguita se fosse dentro una print quindi se adesso salviamo questo e torniamo di qua vediamo che viene stampato correttamente il tutto e di nuovo se volessimo questa è una stringa se volessimo manipolare la stringa potremmo farlo per esempio perché qui stiamo scrivendo python stiamo scrivendo codice python direttamente ok quindi mentre qualcuno finisce di copiare ricapitolando la puntata di oggi e che vi servirà per il laboratorio di mercoledì quando andrete alla BINF se usate i vostri computer potete creare un virtual environment e installare Flask potete usare Flask se l'avete installato su vostro computer al livello del sistema operativo sui computer della BINF potrebbe essere già installato non ricordo se alla fine sono riusciti a installarlo dappertutto se non è installato dovete installare in un virtual environment c'è già Visual Studio Code con l'estensione di python installata esattamente questa che stiamo utilizzando per eseguire potete per eseguire un programma Flask potete o usare la linea di comando Flask run se si chiama app.py oppure Flask meno meno app nome del file run se si chiama in maniera diversa o scrivere app.run all'interno del codice e fare un run normale se per creare delle pagine potete fare un template e scriverlo in questo modo con questi che sono programming statement questi che sono espressioni valutate c'è anche la versione commento che abbiamo citato ma non l'abbiamo mai usato ma lista dei docenti questo è un commento del template che non viene renderizzato in html quindi rimane solo qui non viene visto nel file html prodotto da server che sono i tre tipi base oltre al for ci può essere un if ma anche l'if si apre e si chiude con if and if l'else if come in python si chiama l'if l'else continua a chiamarsi else per passare abbiamo detto un oggetto dal file python all'altro template dobbiamo dargli come secondo parametro di questo render template e le url le possiamo definire con url for i file statici li mettiamo in una cartella static immagini anche i file css nella cartella static e li importiamo li utilizziamo sempre con url for static virgola style.css esattamente come adesso facciamo per il png e eventuali file css vanno sempre importati nel led quindi esattamente come abbiamo fatto finora insieme ad altri dati di meta nel body si può utilizzare section article tutto quello che abbiamo visto finora sull'html niente di quello che abbiamo visto non è più valido semmai si aggiunge questa sintassi particolare in più ok questo è più o meno quello che vi serve per il laboratorio di mercoledì che sarà il primo laboratorio su flask un po' per familiarizzare e in cui farete qualcosa di un pochino più complicato di questo sempre utilizzando lo stesso social che state sviluppando ok quindi sarà un po' più complicato perché avrà il css cosa che adesso non c'è avrà bootstrap cosa che adesso non c'è e così via ora non abbiamo ancora finito per oggi in Jinja questo non lo farete mercoledì ma lo portiamo avanti per la settimana prossima c'è la ereditarietà tra template perché? perché come dicevamo prima abbiamo del codice HTML duplicato per esempio HTML per esempio una parte del titolo title iav- è lo stesso che c'è qui questo add queste quattro righe sono identiche tra i due file tranne che per questa parola qua per il resto sono identiche la struttura la struttura dell'applicazione è la stessa c'è un body e c'è un H1 e anche qui c'è un body e c'è un H1 poi cambia ovviamente allora anche in questa applicazione semplice perché alla fine è un'applicazione semplice ci sono delle parti duplicate delle parti comuni come dicevo prima immaginate un'applicazione più complessa tipo la vostra in cui tipo quella che avete fatto in laboratorio in cui c'è la barra di navigazione in alto che è uguale per tutte le pagine se non per qualche pezzettino il file CSS che importate è uguale per tutte le pagine il link a bootstrap se avessi più pagine sarebbe uguale a tutte le pagine il post di un social immagine autore e testo descrittivo quello è lo stesso identico parte di HTML ripetuta n volte quindi tutte queste cose sono blocchettini di codice che hanno delle variazioni nel contenuto ma sono strutturate nello stesso identico modo su più pagine se non avesse più pagine allora Jinja ha quello che si chiama ereditarietà dei template e definisce un concetto di blocco per evitare di avere codice duplicato e per anche importare un template all'interno di un altro template quindi per esempio voi potreste avere la home page e poi un template che rappresenta nel vostro esempio del laboratorio un post quindi importare n volte con un ciclo for quello stesso blocco che rappresenta solo la parte del post quindi non tutto il file HTML è solo un pezzettino un pezzettino che è ripetuto che è una cosa che capita spesso su un sito avere pezzi ripetuti e la cosa bella del template del template dei blocchi è che non c'è bisogno di cambiamenti al file Python rispetto alla versione senza ereditarietà e senza blocchi quindi tutto quello che abbiamo fatto finora rimane così se noi volessimo aggiungere i blocchi andremo a modificare solo il file di template il file Python non sarebbe necessario modificarlo allora i due tag principali che sono tag di programmazione che sono statement di programmazione in Jinja sono questi uno per abilitare il blocco quindi una porzione ripetibile di codice HTML e uno per abilitare l'ereditarietà quindi il fatto che un template può estendere un altro template può essere il figlio di un template di altro tipo allora il blocco ha una parola chiave block come potrebbe essere for ma in questo caso è block un nome del blocco il contenuto del blocco eventualmente e un end block e questo definisce o crea un blocco all'interno di un template e all'interno di un template il nome del blocco deve essere univoco quindi all'interno del template non potete avere due blocchi con lo stesso nome quindi se fate un blocco che si chiama title o titolo può esserci uno solo all'interno di quel template non potete avere due blocchi titolo che fanno due cose diverse e questo definisce un blocco una porzione dopodiché c'è l'altro l'altra keyword che è extends extends che cosa? un altro template in questo caso un template che si chiama filename.html questo estende un template in modo che un figlio possa utilizzarlo quindi io sono un template figlio e prendo dal template estendo il template padre vanno a riempire solo i pezzi che mi interessano e questo filename può essere tutto questo siamo all'interno della cartella templates sempre e tutto questo può essere o un nome di file come abbiamo fatto adesso indexed about oppure potrebbe anche essere dentro un'altra cartella sempre all'interno di templates se no il meccanismo del templating non funziona e quindi se solo il nome si scrive così se invece fosse anche dentro un'altra cartella sarebbe nome della cartella e nome del file quindi qui tra queste virgolette ci sarebbe anche la cartella o le cartelle che separano da templates a dove si trova l'altro file da estendere quello che si fa tipicamente è di definire un template di base che rappresenta la struttura comune a tutte le pagine di un sito o di un'applicazione web nel nostro caso nel caso del nostro esempio questo è un template di base c'è html title iav perché era la parte comune a tutte le pagine la parte variabile che è un blocco che si chiama title che nel template di base non ha alcuna informazione perché questo è il padre la struttura base di tutti gli altri file e poi c'è allo stesso modo chiudo the head chiudo the body e c'è un altro blocco che è il contenuto questo blocco contenuto di nuovo non definisce niente perché questa è la struttura e questo blocco può essere usato sia in questo modo come definizione di un blocco ma senza avere niente al suo interno oppure per mettere qualcosa davvero in quel blocco quindi questi sono i due template figli di quel blocco base e perché sono i template figli perché come prima riga e questo è essenziale che sia la prima riga del file estendono il template di base quindi dicono tutto quello che c'è nel template di base io lo voglio usare e poi vanno a specificare le cose che vogliono specificare di quel template di base in questo caso l'index specifica che il titolo il blocco titolo definito qui dovrà essere rimpiazzato con blog e il blocco titolo nell'about deve essere rimpiazzato con sul corso e al posto di questo contenuto di questo blocco content quindi all'interno del body l'index metterà tutto questo che è tutto il body che avevamo prima mentre l'about metterà tutto questo che è tutto il body che avevamo finora incluse la lista dei docenti ora facendo così i template figlio l'index e l'about perdono tutta la parte di html quindi da soli non sono più ben visualizzabili perché non hanno tutte le altre informazioni ma allo stesso modo lasciano a qualcun altro preoccuparsi della struttura quindi se questo non fosse un semplice body ma fosse una barra a sinistra e un corpo main a destra o fosse un'architettura flex si potrebbe definire qui la sidebar di sinistra col block sidebar e una parte main col block content e andare a modificare nei template index and about solo la parte che interessa quindi solo la sidebar solo il contenuto e se ci fosse una pagina che non deve cambiare la sidebar andrebbe a modificare solo il contenuto quindi non andrebbe a sovrascrivere l'altro blocco che magari è definito nel template padre quindi questo è un'ulteriore estensione di quello che abbiamo visto finora ok ok allora io vi racconto ancora il super block e poi basta il super block è il contrario poi li riprendiamo con un esempio giovedì il super block funziona al contrario il super block permette di recuperare le informazioni dal blocco padre per inserirle nel blocco figlio quindi se per esempio un template padre il base definisse che nell'head c'è un blocco che si chiama head che ha un link a un foglio di stile e poi è un title noi potremmo richiamare super quindi andremo a riprendere tutte queste cose a suo interno e potremmo per esempio aggiungere un altro foglio di stile questo è about.css che qui non era definito quindi recuperiamo le informazioni del blocco head ma non le sovrascriviamo come faremmo col titolo in cui andiamo a rimpiazzare il contenuto di titolo ma ereditiamo quelle informazioni e ne aggiungiamo altre quindi questo serve se vogliamo prendere delle informazioni in un altro template e recuperare quelle e aggiungere qualcos'altro senza rimpiazzarle perché ovviamente noi possiamo avere un padre e un figlio o possiamo avere un padre un figlio e poi un figlio del figlio e così via quindi avere un'ereditarietà che va avanti e quindi a un certo punto nel template di base non avremo informazioni ma magari nel primo figlio avremo informazioni che vogliamo portare al figlio del figlio al nipote in un certo senso e questo super ci permette di non perdere e non dover ripetere le informazioni che abbiamo questo lo riprendiamo giovedì con magari un esempio un po' più complicato anche tutto il resto mercoledì in laboratorio farete tutto tranne quest'ultima parte sul templating se avete domande sono ancora un po' qui altrimenti buona serata grazie a tutti